Lettura del bollettino quotidiano. Partiamo dal dato dei guariti. Oggi registriamo 213 nuovi guariti che porta il totale dei guariti a 1.258. Per quanto riguarda le persone affette da coronavirus registriamo un incremento di 2.214 nuovi casi. Attualmente i positivi sono 12.839. 5.036 sono in isolamento fiduciario volontario a casa. 1.153 sono in terapia intensiva. Il dato è sempre fermo è il 10 per cento delle persone affette da coronavirus. Il numero delle persone ricoverate in ospedale è 6.650, il numero dei deceduti è di 188, il 98 per cento dei deceduti da inizio dell'emergenza ha più di 68 anni e il 67 per cento dei deceduti in inizio dell'emergenza ha delle patologie pregresse.